Ciao a tutti, questa sera parliamo di impugnatura, un argomento che mi ha sempre affascinato l'impugnatura dell'arco, diciamo anche la conformazione dell'impugnatura, vedremo un po' sia come mettere la mano, effettivamente poi la mano sull'arco, e questo ce l'hanno insegnato tutti gli istruttori, e anche un po' come strutturare, qual è il mio pensiero, insomma, su come strutturare, come dovrebbe essere la conformazione della grippe e dell'impugnatura. In un altro video parleremo poi effettivamente qual è il punto di pressione, il punto di pivot più importante, di come approfondiremo questo argomento, perché il punto di pressione, il punto di pivot poi influisce anche sul killer, influisce sull'incocco, influisce su un sacco di fattori, ma questa sera vediamo e parliamo soprattutto per quello che riguarda la conformazione. Intanto vediamo che comunque qualsiasi conformazione, ne vedremo tante, parleremo soprattutto di conformazioni per quanto riguarda l'arco nudo e gli archi tradizionali, perché diciamo si assomigliano abbastanza, anche se ultimamente molti tiratori arco nudo si stanno posizionando su impugnature più adatte all'arco olimpico, che prevedono una leggera intrarotazione della spalla, ma lo vedremo più avanti. Intanto la tecnica, la tecnica è essenziale, vediamo che, come abbiamo qua nel filmato, un buon rilassamento del polso, la dragon, l'arco che deve andare a sbattere sulla dragon, questo deve essere fatto assolutamente per quanto riguarda anche gli archi tradizionali. Anche gli archi tradizionali non vanno tenuti, come vedo spesso, come impugnare un martello, impugnare una racchetta da tennis, ma ahimè la mano deve essere rilassata. Vediamo che la mano deve essere rilassata, le dita avvolte intorno all'arco, ma non lo devono trattenere minimamente. Vediamo che le dita, ecco, come si rilassano. E questo deve avvenire, ovviamente, anche per quanto riguarda l'arco lombò. Vediamo qua, l'arco, il tiro dell'arco lombò, non vediamo lo stile, qua sto tirando a circa 18 metri, non vediamo lo stile, ma vediamo intanto la mano, pur non avendo la dragon, che io consiglio sempre dove è permessa, pur non avendo la dragon, vediamo come comunque il polso si rilassa, si rilassa molto bene, e questo senza far sbandare troppo l'arco, anche se sappiamo che l'ombò, ahimè, è leggerissimo ed è lo strumento arcieristico più difficile da maneggiare ed avere comunque una discreta destrezza. Comunque vediamo che la tecnica è prima ancora di capire come strutturare e come conformare per ogni arciere, per ognuno di noi, la conformazione dell'impugnatura, dobbiamo comunque avere una tecnica adeguata. non sono un lombò di fama internazionale, vediamone uno di fama internazionale. ecco, questo è un calvin smock americano che ce lo troviamo in tutte le competizioni internazionali, quindi diciamo che va sempre a combattere con i nostri più bravi arcieri, ma anche con gli arcieri finlandesi, cecoslovacchi, norvegesi, che sono diciamo al top addirittura in questo decennio, con i nostri ovviamente, con i nostri che sono formidabili e fortissimi, vediamo anche calvin smock come abbia una buona tecnica, senza ahimè rilassare troppo bene l'arco, potrebbe migliorare un pochettino di più, però è comunque molto molto efficace ed efficiente la sua tecnica. Ma tutto questo per dire cosa? per dire cosa poi alla fine? Beh, per dire che intanto la mano dell'arco influenza, influenza tutta, influenza il volo della freccia fino all'ultimo istante. Come potete leggere anche quello che ho scritto, se la mano stringe l'impugnatubolo oppure la spinge, ruota, sbanda, cambia posizione, torchio, scivola, ahimè, rovinerà sicuramente anche il miglior tiro con la migliore tecnica ed eseguito anche nel modo più corretto. Intanto, come abbiamo già visto, la tecnica è essenziale, ma l'abbiamo già imparato a tutti i nostri istruttori che se abbiamo fatto il nostro corso di tiro con l'arco sappiamo che la mano deve essere sempre ben rilassata. Il rilascio del polso si deve rilassare istantaneamente. le dita della mano devono essere a volte intorno all'impugnatura a contatto ma completamente rilassate. Incominciamo così, anche se poi possiamo personalizzarle, possiamo tenerle dita indietro, possiamo tenerle rannicchiate, però intanto cominciamo a fare le cose come ci ha detto il nostro istruttore quando ci ha insegnato i primi rudimenti. come se si dovesse stringere un grappolo 2 e noi stringiamo un grappolo 2 uscirà il succo e non dobbiamo stringere l'impugnatura dell'arco. L'azione della mano dovrà essere sempre eseguita uguale tiro dopo tiro, sempre uguale tiro dopo tiro. Ci sono molti accorgimenti per poter specialmente per chi ha iniziato poter sempre essere la mano posizionata sempre nello stesso punto. Ma questo lo vedremo più avanti, ne parleremo più avanti. Intanto la corretta mano dell'impugnatura dita rilassate è avvolta intorno all'impugnatura. Ecco, le vediamo, le vediamo per l'arco nudo e le vediamo per il lombò. Le mani sono, le dita della mano sono completamente rilassate. Intanto guardiamo intanto il pollice. perché tra un po' parleremo anche dell'estrema importanza del pollice, della direzione del pollice. Lo vedremo, lo vedremo, ne parleremo bene più avanti. Vabbè, intanto l'allungo corretto è essenziale ovviamente per questo genere per la giusta e corretta impugnatura dell'arco. è imperativo avere una perfetta costanza del proprio allungo e soprattutto che l'allungo sia corretto. Abbiamo già detto mille volte che mettere il dito all'angolo della bocca ahimè non è la soluzione forse non è la soluzione ottimale perché dobbiamo trovare qual è il nostro allungo fisiologico. Le misure antropometriche di braccio ad avambraccio dovranno permetterci gli allineamenti corretti dovranno permetterci gli allineamenti corretti delle forze di spinta di trazione questo è essenziale per avere per avere un allungo corretto e soprattutto che l'arco non sbandi eccetera eccetera quindi indipendentemente da come andremo poi a conformare a correggere adesso vediamo conformare e correggere la la nostra impugnatura e beh questi dati tecnici di tecnica di base fondamentale dovrà essere diciamo in cima alla nostra alla nostra lista oh l'allungo esatto intanto permette di posizionare esattamente la mano dell'arco rilassata con la pressione dell'arco esercitata alla base del polio direttamente di fronte alle ossa del polso eliminando il coinvolgimento dei muscoli del gomito il loro movimento involontario ebbene assolutamente sì l'allungo esatto permette di posizionare esattamente la mano dell'arco che deve essere rilassata con la pressione esercitata alla base del pollice poi vedremo il pollice come dovrei perché per noi archi nudi archi tradizionali il pollice dovrà essere una sorta di mirino sì 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 una sorta di mirino dovrà essere quello che non il dito indice non è il dito indice da utilizzare per centrare il bersaglio in modo anche istintivo o paraistintivo ma dovrà essere il pollice perché è da lì che scaturiscono effettivamente le forze vediamo qua la mia mano com'è rilassata qua purtroppo non avevo la dragon ahimè senza dragon possono capitare le cose più strane ed impensabili nonostante un buon allungo però a questo punto siamo sicuri siamo sicuri che le dita erano perfettamente rilassate e e le dita comunque stringevano l'arco come un grappolo d'uva perché lo stringevano come un grappolo d'uva e però erano 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 assolutamente rilassate lo vediamo ancora una volta non mi vergogno a fare vedere a fare vedere questo episodio ma le dita devono essere a volte ma completamente completamente rilassate intanto l'impugnatura l'impugnatura deve restare rispetto alla mano sul lato verso il pollice della linea della vita lo sappiamo lo sappiamo tutti dove il palmo della mano si piega ovviamente senza attraversarla non deve essere dall'altra parte della linea della vita ancora una volta anche se è una cosa super scontata lo dobbiamo assolutamente da questo lato del palmo un solo gruppo di muscoli è interessato all'azione mentre dal lato opposto vi sono diversi muscoli che è bene evitare che lavorino anche perché irrigidiscono l'avambraccio e irrigidire l'avambraccio è ahimè molto male sappiamo tutti che l'avambraccio deve essere assolutamente una catena e le catene non sono rigide e così deve essere il nostro avambraccio inoltre le due ossa dell'avambraccio finiscono al polso dietro la zona del pollice ed è bene che le ossa agiscano direttamente contro l'arco in modo da usare il meno possibile i muscoli per tenere l'arco in equilibrio dinamico ebbene ovvio ovviamente specialmente l'osso radio deve essere in corrispondenza dell'ombro in modo da esercitare diciamo una pressione scheletrica adeguata allora intanto 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 alla completa apertura in ancoraggio la linea della vita della mano dell'arco deve essere verticale e questo è già un dato di fatto dovete tenerne presente di questo fatto quindi stendere il braccio e sollevare la mano con pollice e indice a forma di V e lasciare che le dita siano ben rilassate a volte all'interno dell'impugnatura quante volte l'avete sentito dire dal vostro istrutto ebbene è sempre è sempre la stessa cosa non cambia niente quello che vi ha detto l'istruttore è fondamentale quindi assolutamente questo anche per gli arcieri super esperti deve essere condizionante deve essere portato avanti fino al top level ovviamente ovviamente ogni torsione ogni torsione impartita all'arco prima del tiro causa un gran numero di errori soprattutto errori destra sinistra quindi è necessario trovare una posizione della mano che non impartisca alcuna torsione all'arco ecco che qua diventa importante probabilmente trovare una conformazione adeguata alla nostra impugnatura alla nostra grip ovviamente spesso l'arciere riesce ad adattarsi senza problemi all'impugnatura fornita dal costruttore quella che abbiamo normalmente sull'arco quasi mai è raro trovare che qualcuno se non ad alto livello modifichi l'impugnatura che adattiamo abbastanza bene adottiamo soprattutto i nostri muscoli però alle volte è necessario e si deve per l'appunto modificare l'impugnatura in modo che soddisfi le nostre esigenze in modo adeguato alla nostra forma di tiro al nostro tipo di tiro qua vediamo Giuteppe Seimati con la sua impugnatura personalizzata che lo ha personalizzata proprio esattamente per il suo tiro con un allungo vedete notevole molto importante e vedete come le dita anche le sue anche di Giuseppe Seimandi sono a volte intorno all'impugnatura ecco qua vediamo vediamo come il polso si deve rilassare all'istante le dita devono essere rilassate già in pretrazione già in pretrazione qua parliamo anche un pochettino di tecnica riassumiamo brevemente anche un po' le dita devono essere rilassate in pretrazione quando si va in trazione si va in ancoraggio le dita devono già essere rilassate non le possiamo rilassare dopo le dobbiamo rilassare prima perché le dobbiamo rilassare prima perché in questo modo riusciamo anche a percepire molto meglio il punto di pressione il punto pivò che ci siamo prefissati che poi dovrà essere ripetibile di volta in volta sempre nella stessa identica maniera se è necessario modificare l'impugnatura occorre farlo ovviamente prendendo in considerazione alcuni parametri specifici e per poter preparare l'impugnatura che avvori bene che permette di ottenere risultati ovviamente dobbiamo fare i conti con le caratteristiche fisiche di ognuno di noi la nostra tecnica e la forma di tiro che abbiamo insiti in noi quindi la variabile arciere siamo effettivamente un'impugnatura che va bene per uno non certo non va bene per un'altra vediamo un po' di impugnatura intanto vediamo questa ad esempio che vediamo qua un'impugnatura per arcieri destri ed è l'impugnatura che ha progettato Kisigli per arco olimpico che è commercializzata da OIT e costa una bella cifra ed è marchiata Kisigli ed è stata proposta non tanti anni fa non tanti anni fa quindi vediamo com'è fatta questa conformazione guardatela bene tenetela a mente perché non vediamo spigoli vivi non vediamo perché Kisigli non ha adottato il sistema di avere una parte piatta con spigoli vivi non ce l'ha e vedremo anche poi l'impugnatura di Brady Ellison che è ovviamente discepolo di Kisigli come ha adottato la sua conformazione non tanto per copiarlo ma per renderci conto di come anche Brady Ellison ha dovuto conformare la propria impugnatura alle proprie esigenze intanto la modifica più importante e questa è da dire la modifica più importante è l'angolo orizzontale i costruttori forniscono l'impugnatura con un marcato angolo inclinato verso il basso sul lato del pollice e con uno spigolo vivolo dall'altro lato questo a mio modestissimo parere ovviamente non è quasi mai corretto per archi nudi e archi tradizionali l'angolo orizzontale deve partire dal centro e inclinarsi verso il basso dai due lati dell'impugnatura e questo è quello che tutti i costruttori di archi tradizionali hanno fatto ed è vero questo perché l'arco tradizionale è molto leggero e anche l'arco nudo non è pesantissimo non ha una stabilizzazione quindi è molto facile è molto facile creare delle leve sull'impugnatura e quindi aumentare la possibilità di torsione che sappiamo è satana satana per qualsiasi per qualsiasi arco nudo o tiratore di arco tradizionale ecco qua vediamo intanto una grip progettata per arco nudo quella di sinistra quella di sinistra è la grip progettata per arco nudo che veniva montata di serie perché ormai non viene più prodotto che veniva montata di serie veniva montata di serie sul Green Horn Sirius quindi l'arco arco nudo più utilizzato dai top level al mondo e quasi mai vi assicuro quasi mai quasi mai non è quasi mai stata modificata tantomeno io non l'ho modificata se non con una nastratura ma quella della nastratura tenete la mente perché ne parleremo anche sulla della nastratura della grip quella di destra invece che vediamo è una grip che viene ahimè montata su tutti gli archi olimpici ormai da un po' di anni a questa parte questa non ha uno spigolo vivo che vediamo sulla sinistra però molte grip per arco olimpico hanno un forte hanno un forte angolo vivo sulla sinistra queste sono tutte grip per arcieri destri sono tutte grip per arcieri destri vedete come l'angolo orizzontale della grip di destra per arco olimpico è molto spostata da una parte molto spostata verso destra questo proprio per permettere una leggera intra rotazione della spalla che a quanto dicono i guru i guru dell'arco dell'arco olimpico permette un miglior allineamento però noi non abbiamo la stabilizzazione non abbiamo il clicker ahimè e secondo me provoca più danni che benefici vediamo anche una grippe di ultima generazione che è stata progettata per l'archi olimpici che ho visto un po' in giro utilizzata anche degli archi nudi la parte questa è sempre sempre per arco per arcieri destri vediamo che questa parte scura è leggermente cedevole è leggermente cedevole quindi diciamo che si conforma un pochettino di più pur avendo questo spigolo vivo e questo angolo orizzontale che è inclinato verso destra la parte è leggermente cedevole quindi tutto sommato diciamo che potrebbe conformarsi più facilmente per gli archi nudi io non sono tantissimo d'accordo però anche qua le personalizzazioni non si può andare contro le personalizzazioni di questo tipo vediamo vediamo intanto Brady Ellison vediamo Brady Ellison come ha conformato la sua impugnatura questo questo non è di molto tempo fa vediamo ecco che ci parla della sua impugnatura vediamo se lo riusciamo a fermarlo ecco vediamo come anche lui ha conformato la sua impugnatura per avere questa è la grippe di Kisikli e lui l'ha conformata un po' meglio vediamo che ha messo anche uno strato da questa parte uno strato antiscivolo e questo va un po' contro tutto quello che ci hanno detto tutti gli istruttori che la posizione esatta deve essere quella che deve entrare deve dobbiamo mettere dell'olio sull'impugnatura in modo tale che poi la grippe si posizioni nel punto giusto e questo ha provocato tanti qui però sull'argomento io sono più convinto invece che la mano non deve scivolare noi dobbiamo trovare poi la nostra posizione in base alle catene cinetiche che metteremo in atto per allinearci con le forze di spinta e trazione ma la mano non deve scivolare la mano non deve scivolare non deve scivolare quindi non solo Brady Ellison ha messo una una zona che non gli deve provocare scivolo ma non gli deve neanche provocare torsione lui ce l'ha piatta perché lui ha un po' di intrarotazione della spalla per entrare un pochettino dentro per avere un allineamento più preciso ma soprattutto e poi vediamo anche come come ci converrà poi e se ci converrà mettere un nastro quello che usano i tennisti sulle grippe delle impugnature dei tennisti vediamo questa è controversa quella ma a mio modesto parere assolutamente no assolutamente è molto conveniente per archi nudi e archi tradizionali avere una buona grip e quindi avere il nastro da tennista vedete qua in questa zona questa zona qua ha modificato anche questa zona Brady Ellison e non vi deve sfuggire questo perché questa zona qua è importantissima perché permette al pollice di rimanere puntato verso il bersaglio assolutamente il pollice non deve superare l'altezza dell'indice deve stare molto più basso e deve essere in linea in linea con il bersaglio andiamo ad andare avanti ecco adesso ce ne parla ci dice per l'appunto di come ha modificato quella zona proprio per quanto riguarda per quanto riguarda il pollice perché il pollice non si deve non si deve assolutamente alzare ecco come vediamo il suo pollice anche se ha una leggera rotazione del pollice verso l'alto che gli fa ruotare un pochettino il pollice però lui ha una stabilizzazione molto importante quindi questo viene una sua personalizzazione però è da tener colto anche questo fatto qua alle volte abbiamo questo pollice che sale troppo non c'è niente di male assolutamente a conformare la nostra impugnatura per avere per avere come vediamo il pollice che non deve salire salire troppo ma deve essere più basso dell'indice e deve essere puntato verso il bersaglio perché questa zona è questa la zona di spinta dall'osso omero radio pollice che deve essere puntato verso il bersaglio e quindi noi dobbiamo allenarci ad avere essere concentrati anche su questo ovviamente oltre a tantissime altre tantissime altre cose però non ci deve sfuggire questa 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 possibilità adesso vediamo come 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 mettere il nastro dell'impugnatura io ne ho visti mettere in tutte le maniere in tutte le situazioni in tutte le possibilità allora intanto io vi consiglio una volta che avete trovato la vostra impugnatura la vostra conformazione giusta come vediamo qua che è leggermente rialzata con del con dello stucco dobbiamo imparare assolutamente a mettere il nastro da tennista un buon nastro da tennista ci permette di questa questa questo antiscivolo che che è importante proprio per non far scivolare la mano e avere sempre la mano sempre in spinta sempre nel stesso punto ovviamente vediamo che non dobbiamo metterlo qua in questa zona in questa zona assolutamente non deve esserci il 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 nastro ma il punto più importante ovviamente è questo dove c'è il punto di spinta appena sotto il punto di pivote allora qua intanto non so se l'avete letto nel adesso lo vedrete lo vediamo ancora una volta questa questa manovra non è fatta a caso ma è fatta da uno degli allenatori coreani ex una una ragazza ex arcera ex compoundista che ora è ora allenatrice e allenatrice kiroha kirokoreana che se seguite attentamente il filmato avete imparato a a fare questa manovra di di sistemazione della grip che si chiama criss cross che si chiama a croce che in questo modo non si muoverà non si muoverà più rimarrà rimarrà in questa posizione perché oltretutto ovviamente oltre a non far scivolare la mano non deve scivolare la la sua impugnatura questa è la si chiama appunto tecnica criss cross per avere il wrapping sul sull'arco sulla grip questo è il coach kong ho yang coreana molto brava quindi diciamo non ho non ho non mi sono permesso di insegnarvelo io la tecnica criss cross ma la vediamo ma la vediamo fatta da una grande professionista dell'arco che vediamo per l'appunto come sistemare il nastro che io consiglio sempre consiglio sempre assolutamente di sistemare vediamo vedete come non deve avere grinze come deve essere tirato opportunamente vedete prima in su poi in giù sempre vedete che passa più volte nello stesso punto e assolutamente non crea grinze e il nastro rimarrà ben fisso non vi farà sbandare non vi farà non vi permetterà che la mano scivole sull'arco e provochi torsione qua vediamo che di spigoli vivi non ne vedo non ne vedo spigoli vivi quindi anche anche se ovviamente tutto tutto ovviamente è personale però vado un po' contro a quelli che dicono lo spigolo vivo per l'olimpico deve esserci e se lo mette l'olimpico lo spigolo vivo deve averlo anche l'arco lungo questo è un'opinione troppo talebana e io non sono minimamente assolutamente minimamente d'accordo conclusioni vediamo un po' di dare un po' di conclusioni allora secondo me in ogni caso l'angolo orizzontale corretto per il proprio stile quando rilascio l'arco si muove ben dritto verso il bersaglio e l'arco non si sposta né verso destra né verso sinistra questa è la cosa più importante di tutti poi se riuscite a farlo anche con l'impugnatura per olimpico ben venga contro i punti e contro le buone rosate non ci si muove mai però intanto sappiate sappiate che non dovete fare non è una moda non dovete non dovete il vostro cervello dovete essere curiosi sì provare tutto assolutamente provare tutto però sappiate che quella che vedete sulla sinistra è la grip con la conformazione più utilizzata sia per gli archi nudi che per gli archi tradizionali quindi vedete come arrotondata e l'angolo scende da ambe due da ambe due le parti questo è un mio rilascio e vedete come l'arco è andato esattamente contro la dragona è andato esattamente contro il bersaglio l'impugnatura di serie del mio smart riser anche anche questa era una conformazione solo per olimpico anche se era montata su arco ludo e non ho trovato assolutamente confortevole per il mio stile di tiro e ho dovuto assolutamente modificare l'ho modificata fin tanto che non ho avuto proprio questa sensazione che l'arco vada che ben eseguito il tiro l'arco vada solo ed esclusivamente verso il bersaglio ok abbiamo finito per questa sera io vi ringrazio spero di esservi stato assolutamente un pochettino utile e abbia un po' messo in pratica e vi abbia un po' fatto capire quanto dobbiate essere curiosi quanto dobbiate essere quanto dobbiate provare tutto perché tutto va provato tutto va messo in pratica però assolutamente non date niente per scontato se un costruttore fa una cosa a volte sbaglia e che comunque qualsiasi costruttore al mondo non può fare l'arco uguale per tutti tantomeno guai assolutamente guai per l'impugnatura quindi prima ancora di adattarci noi all'impugnatura perché poi alla fine questo che noi facciamo prima di adattarci all'impugnatura ebbene no assolutamente no vediamo di adattare l'impugnatura a noi al nostro stile di tiro alla nostra tecnica che è una buona tecnica se ha dei buoni fondamentali il nostro materiale deve adattarsi e sfruttare al massimo per l'appunto sfruttare al massimo quello che siamo capaci di fare grazie ciao a tutti forza e coraggio dai che usciremo ne usciremo bene ciao ciao a tutti ciao a tutti